salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ormai tutti noi scattiamo tantissime foto lo facciamo ormai quotidianamente lo facciamo sia per fare foto sui paesaggi per fare foto al cibo per fare foto di dove ci troviamo per fare dei selfie facciamo veramente tantissime foto però spesso queste foto che poi condividiamo su instagram piuttosto che su telegram piuttosto che su facebook o su whatsapp dove li condividiamo direttamente magari con i nostri amici e parenti purtroppo spesso queste foto non rendono per quello che avremmo voluto cosa vuol dire che magari la foto è bella per quanto riguarda il soggetto per quanto riguarda il paesaggio però non è venuta come avremmo voluto ancora più spesso poi succede quando fotografiamo con i nostri amatissimi droni dove andiamo magari in location strepitose però poi magari le foto quando le andiamo a riguardare a casa hanno dei difetti cosa intendo per difetti difetti magari di luce di ombre di sovraesposizione cioè tutte cose che rendono la foto non come avremmo voluto perché poi quando la condividiamo non dà quell'effetto wow a chi la guarda mentre la location dove l'abbiamo scattata era da wow quindi per risolvere questo problema ragazzi adesso è semplicissimo è arrivata un'applicazione un software chiamiamolo come vogliamo disponibile sia per windows che per mac che rende tutto super semplice è nuovissimo ed è appena uscito è uscito 17 febbraio 2022 quindi avete capito che ha pochissime ore di vita e ragazzi è strepitoso è un'applicazione che potete sia acquistare che fare un abbonamento per un anno decidete voi è la cosa bella che adesso è pure in offerta lancio quindi sia che facciate l'abbonamento che l'acquistiate in maniera definitiva è davvero scontatissima sempre come io ho detto fino al 3 marzo vi lascio il link sotto in descrizione e l'applicazione di cui vi sto parlando è luminar neo ragazzi io sono rimasto senza parole perché cos'è la cosa bella di questa applicazione di questo software che ci permette di modificare le foto senza avere nessuna esperienza praticamente in maniera semplicissima abbiamo un sacco di possibilità di modifica delle foto ma tutte in maniera quasi automatizzata questo ci permette di andare a modificare o meglio andare a risolvere quei difetti che ha la foto o andare a migliorare la foto per quanto riguarda magari colori piuttosto che il dettaglio cioè veramente abbiamo un sacco di possibilità o andare proprio a stravolgere la foto per creare una foto artistica ovviamente uno decide in base ai suoi gusti in base a dove deve utilizzare quella foto però ragazzi veramente ci permette di avere delle foto pazzesche adesso vi farò vedere degli esempi delle foto che io ho fatto con loro questi droni quindi andremo a vedere delle foto in location secondo me spettacolari dove però queste foto avevano dei difetti le foto erano belle per quanto riguarda appunto il paesaggio per quanto riguarda l'angolazione per quanto riguarda tutto quello che vogliamo cioè la foto era quella che volevo però aveva dei difetti difetti di luce di ombre di dettaglio di sovraesposizione cioè veramente qualche difetto in tutte queste foto c'era e lo sono andato a correggere in maniera semplicissima e la cosa che è fantastica appunto che chiunque è in grado di farlo cioè dopo che questo software l'avete installato dopo pochissimo tempo ma parlo al massimo di un'ora di utilizzo avete già capito come intervenire sulle foto perché la maggior parte del lavoro lo fa l'intelligenza artificiale di illumina neo ragazzi io ve lo dico se provate questo software non lo mollate più soprattutto se siete abituati a condividere le foto magari su instagram piuttosto che facebook e volete avere dei riscontri super positivi da chi guarda quelle foto ragazzi sicuramente vi succederà con questo software ma anche per un uso per voi stessi magari anche se volete fare un poster o volete fare un quadro con una foto strepitosa che avete fatto in una location incredibile modificandola avete un risultato pazzesco adesso andremo a vederlo appunto in alcune situazioni di foto come vi ho detto che ho creato io io tendo sempre anche nei video che vedete qua sul canale riguardanti i droni quindi cinematic video che vado a fare nelle location dove vado a farli volare tendo sempre a non mettere una color correction che vada a stravolgere quello che è quello che stavo guardando io in quel momento non sono un amante delle color correction che fa vedere cose a livello di colori che non sono quelli reali mi piace si magari modificarli un po rimanendo sempre diciamo su quello che era l'originale non amo molto il mettere colori o andare a modificare talmente tanto il colore che poi ovviamente non è quello che il nostro occhio vedeva in quel momento poi l'impatto visivo è sicuramente wow però preferisco rimanere un po più sul naturale però questo è una mia opinione e qua possiamo decidere appunto cosa fare se stravolgere completamente la foto se solo migliorarla se solo modificare i difetti e potremmo fare tutto questo utilizzando appunto il luminar new il software come vi ho detto disponibile sia per mac che per windows alla fine vi occuperà circa 4 giga sul vostro hard disk e ragazzi è tanta tanta roba una volta che avrete installato il software quello che vi troverete nella schermata principale è questo ovviamente non ci saranno le foto perché sono quelle che ho caricato io sarà senza foto ci saranno 4 5 foto campione che io adesso ho eliminato quindi ci sono solo le mie foto facendo aggiungi foto che troviamo appunto in alto a sinistra andremo aggiungere una foto selezionandola da una cartella del nostro pc una volta caricata la foto cliccandoci sopra supponiamo di andare a cliccare questa prima foto che vedete qua io adesso la vado a cliccare ci si dà un attimo il tempo che lui la carichi una volta caricata questa è la foto modificata ok se io vado a fare modifica sempre in alto ma nella parte centrale dello schermo ho tutte le possibilità di modifica e qua ragazzi è pazzesco entriamo in un mondo che è veramente incredibile a che punto si è arrivati nel poter far modificare una foto con un aiuto di intelligenza artificiale che va a riconoscere le parti della foto quindi questo software è in grado di capire cosa c'è nella foto se c'è un cielo se c'è una persona se c'è un particolare se c'è una vegetazione cioè in base a quello che c'è nella foto l'intelligenza artificiale andrà a modificare quell'argomento della foto quindi qui a subito a destra ragazzi abbiamo essenziali cosa sono essenziali sono appunto quelle modifiche essenziali che vanno a modificare e creare la foto dei nostri sogni poi appena più sotto abbiamo creativo creativo ci dà la possibilità appunto come dice la voce stessa di andare ad aggiungere un qualcosa alla foto in base appunto alla nostra creatività e poi abbiamo ancora più sotto ritratto che come dice appunto la parola stessa è dedicata alle foto ritratto quindi potremmo andare a modificare tutto quello che è la persona quindi quella persona che c'è nel ritratto dalla pelle piuttosto che ai denti cioè modificare intendo sbiancare i denti la pelle renderla più bella più luminosa potremmo andare a creare una foto bokeh quindi se anche se la foto non ha lo sfondo sfocato che sapete che la foto bokeh il soggetto è a fuoco tutto lo sfondo è sfocato anche se la foto è fatta in maniera normale quindi senza quell'effetto qua potremmo andare a ricreare quell'effetto con due clic è una cosa pazzesca ma adesso dopo avervi dato questa infarinatura per quanto riguarda appunto le funzioni la possibilità che ci dà questo software voglio farvi vedere appunto le modifiche che ho fatto io alle mie foto ora questa foto che è la prima che ho aperto adesso è così così è come ho deciso che questa foto per me è perfetta perfetta per i miei gusti per diciamo quello che vedono i miei occhi per come mi ricordo io che era quel posto per come mi ricordo io che era quella giornata cioè ovviamente si va magari a caricare un po di più i colori cioè qualcosina però di base questo è quello che era quella quella situazione è appunto quel paesaggio che ha fotografato il mio drone in questo caso è stato fotografato da app san zino mini però questa foto è varenna un borgo sul lago di como e ragazzi cliccando in basso a sinistra sull'occhietto ci fa vedere come era la foto prima quindi se io clicco questa è la foto prima della modifica guardate le montagne in fondo quelle innevate soprattutto i dettagli delle montagne dell'acqua se io adesso vado a rilasciare l'occhietto la foto ritorna come è modificata quindi guardate l'effetto anche il cielo vedete le montagne in fondo come adesso sono definite dettagliate e tutto questo fatto in con una semplicità incredibile in alto a destra ragazzi da parte a strumenti troviamo modifiche con un 5 da parte 5 vuol dire che sono le 5 modifiche che ho fatto a questa foto se io vado a cliccare appunto su modifiche mi dà tutte le modifiche che ho fatto all'interno di questa foto se vado su luce modificata che è la prima voce e clicco sull'occhio vedete che mi va a disattivare a disabilitare solo la modifica che ho fatto riguardante la luce modificata questa luce modificata da parte ha scritto ai cosa vuol dire intelligenza artificiale vuol dire che questa funzione sfrutta l'intelligenza artificiale che c'è all'interno di luminar neo e va a riconoscere da sola i punti di luminosità quindi andando a modificare luminosità da vicino luminosità da lontano o profondità il sistema con la sua intelligenza artificiale andrà a modificare appunto quei punti di luce lontano o vicino lo supponiamo di andare a modificare luminosità da vicino che adesso è a 62 vado ad abbassarlo andrà a modificare solo quei punti di luce che il sistema appunto riconosce come vicino lontano o profondità stessa cosa per struttura o migliora con migliora con vedete questo qua in basso è sempre con la ai da parte che sta sempre per intelligenza artificiale va a modificare determinate situazioni vedete migliora cielo e accento se io vado a cliccare sull'occhio vado a disattivare appunto la modifica che ho fatto vedete il cielo come cambia e anche il riflesso in fondo sulle montagne rimane tutto molto più piacevole nell'insieme qua ragazzi se io vado a modificare per esempio cielo vedete migliora cielo io adesso cielo a 18 se vado ad aumentare guardate il cielo come diventa blu ma solo il cielo è diventato blu non è diventata blu tutta la foto o anche l'acqua del lago solo il cielo adesso vado a rimettere a 18 che era quello che per me era diciamo il colore ideale quello che mi dava più piacere nel vederlo stessa cosa se faccio accento che adesso è sul 16 se io aumento vedete come tutto ha cambiato vado a modificare quello che per me è il colore più idoneo per questa foto se andiamo a fare struttura abbiamo anche qua delle altre impostazioni sempre con intelligenza artificiale quindi lui riconosce le porzioni e le situazioni della foto vedete aumento dettaglio io in questo caso ce l'ho messo a 79 adesso vado a disabilitarlo con l'occhio vedete come tutto è cambiato nel dettaglio guardate le piante vicino alla casa rosa guardate le montagne in fondo come cambiano se io clicco anche l'increspatura dell'acqua o anche il dettaglio sulle montagne guardate che come cambia il dettaglio ma tutto questo senza andare a danneggiare quello che è il risultato finale della foto sempre sfruttando appunto l'intelligenza artificiale è pazzesco ragazzi è veramente incredibile poi se io dovesse entrare anche in colore vedete rimuovi dominante cromatica cosa vuol dire che se il sistema riconosce che c'è una dominante di colore all'interno della foto possiamo andare muovendo appunto il cursore a rimuovere o meno quella dominante ma in maniera semplicissima ovviamente poi ognuno in base a quello che vede quel suo occhio in base a quello che diciamo è il suo piacere nel guardare una foto può andare a modificarla più o meno intensamente però avete visto come questa foto ha preso più vita soprattutto nei dettagli nelle parti lontane le montagne quelle innevate come tutto è diventato più realistico adesso voglio farvi vedere un'altra foto che rende tantissimo l'idea di quello che vi sto dicendo ok la foto è questa caricata vado su modifica la foto così è stata modificata da me però adesso vi faccio vedere come era questa foto se io vado a cliccare sull'occhio guardate questa è la foto che ho fatto io questa è una foto scattata con dj air 2s però in condizione di luce veramente estreme perché eravamo in montagna il lago che faceva riflesso giornata limpidissima quindi un sole incredibile e ragazzi vedete che in tanti punti c'è una sovraesposizione il dettaglio si va a perdere soprattutto nelle montagne in lontananza con la modifica che ho fatto il risultato è questo ovviamente si può andare a modificarla correggerla ancora perché magari in certe cose per alcuni c'è ancora dei difetti però capite che tutto ha preso molto più vita rispetto a quello che era adesso voglio farvi vedere un'altra giusto per farvi capire questa differenza questa foto questa foto era una foto che piena di difetti fatta sempre in giornata limpidissima con dj air 2s ma in condizioni di luce veramente forte poi con i riflessi come abbiamo detto del lago e questo è quello che io sono riuscito ad ottenere modificando con l'intelligenza artificiale spostando i vari slider dell'intelligenza artificiale se vado su modifica e vado a cliccare sull'occhio guardate come era questa foto quanto era difettata dal punto di vista della gestione della luce l'angolo in basso a sinistra e l'angolo in alto a destra erano veramente con una quantità di luce incredibile e anche il dettaglio delle case lontanissime perché qui eravamo sulla cima di una montagna quindi eravamo già in alto però guardate il dettaglio come si va a perdere se io vado a riguardare la foto modificata vedete come questa foto l'ho recuperata rispetto a come era è tutto ragazzi in maniera semplicissima cioè ci avrò messo a recuperare questa foto 5 minuti ma divertendomi anche perché è talmente semplice che è incredibile ma adesso voglio farvi vedere un'ultima cosa perché penso che comunque vi ho fatto capire il concetto di tutto che è questa questa è una foto scattata da hotel evo light plus vado su modifica qua ho fatto solo due modifiche come mi dice appunto l'iconetta viola con il numero 2 da parte la scritta modifica in alto a destra e questa foto era in formato raw quindi era una foto grezza e l'ho modificata e questa foto secondo me è bellissima anche qua un sole incredibile c'è veramente una situazione molto difficile anche perché in questa situazione hotel evo light plus non aveva il filtro sulla videocamera quindi sole montagna e tutto però vedete che la foto adesso è molto dettagliata poi ripeto magari lo dettagliata troppo è solo per farvi capire il concetto quindi ho preferito farvi vedere cose abbastanza estreme per farvi capire il concetto della semplicità di modifica se io clicco sull'occhietto in basso a sinistra cioè guardate come era questa foto vedete che il cielo le montagne lontane ma anche queste qua vicine come si sono andate un po a perdere nel dettaglio sulla quello che è la cresta della montagna le rocce mentre se io faccio così come tutto è più dettagliato è più interessante nel guardare la foto poi un'ultima cosa che volevo farvi vedere questa foto è stata scattata sempre in montagna e questa foto l'ho aperta per farvi vedere un particolare allora ovviamente l'ho modificata in varie situazioni la foto originale ragazzi adesso la state per guardare guardate il cielo è la foto originale era questa vedete che nel cielo non c'era assolutamente una nuvola era una giornata limpidissima però mi è piaciuto provare a fare questa funzione che vedremo poi tra poco dove si trova che va a ricreare le nuvole e c'è la possibilità di mettere qualsiasi tipo di nuvola cioè vi dà un sacco di tipologie di nuvole incredibile e le va a mettere da solo in quella posizione non è che voi le dovete decidere dove mettere lui riconosce dove è il cielo e nel cielo mette le nuvole le mette in maniera perfetta cioè se io adesso vado a rilasciare cioè guardate quelle nuvole sembra che erano lì cioè sembra che la foto è stata scattata con quelle nuvole invece non c'era mezza nuvole avete visto che il cielo era azzurrissimo quindi potete andare a ricreare situazioni incredibili e questo lo trovate in strumenti nella parte creativo appunto dove avete un sacco di possibilità dove avete avete cielo potete andare a selezionare i vari cieli quindi vale situazioni di cieli varie situazioni cieli notturni quindi con i colori da mettere all'interno di una foto notturna cioè c'è una possibilità incredibile poi sempre all'interno di creativo abbiamo anche la possibilità di mettere un sole quindi possiamo andare ad aggiungere un sole e modificare dove vogliamo questo vedete quel pallino che adesso mi si è formato qua se io lo vado a mettere in questa posizione supponiamo adesso metto a caso ok e vado a aumentare valore che è a zero vado a mettere un sole finto e il sole completamente modificabile aspetto generale lunghezza dei raggi del sole penetrazione del sole quindi c'è la possibilità di creare situazioni che non c'erano ma rendere la nostra foto davvero interessante e accattivante adesso vado a rimuoverlo perché solo in questa foto non mi interessa poi abbiamo atmosfera che ci va a creare una sorta di nebbia cioè in questa pagina definita creativo andiamo a modificare quello che è la foto qua c'è proprio una modifica nell'andare a creare delle cose che addirittura non c'erano nella foto per la maggior parte delle cose che troviamo qua dentro e per rendere la foto più artistica o più particolare mentre tutto quello che ci interessa a noi per migliorare la foto lo troviamo in essenziali e dove c'è la scritta ai in arancione da parte e dove l'intelligenza artificiale lavora totalmente per noi quindi ci dà la possibilità di rendere la foto incredibile veramente in cinque minuti anche foto con difetti importanti avete visto che vi ho fatto vedere quelle foto che avevano difetti importanti e come sono andato comunque a recuperarle e adesso sono delle foto utilizzabili che anche a condividerle dà piacere a chi le guarda poi la parte sotto invece come vi vedete tutte funzioni di modifica riguardanti le foto con persone quindi foto ritratti per lo più dove andiamo a modificare veramente di tutto dal viso dove possiamo modificare il viso occhi e bocca pelle dove possiamo modificare vedete rimozione luminosità valore cioè andiamo a modificare quello che è la nostra pelle quindi renderà più bella più luminosa corpo che va a modificare vedete forma e addome cioè c'è veramente di tutto e poi abbiamo ritratto bokeh che come vi ho detto va a creare l'effetto bokeh anche in foto che non l'hanno poi sotto abbiamo professionale abbiamo super contrasto e armonia dei colori anche qua interessante provarli perché vi dà la possibilità di vedere altre modifiche sulla foto vi dà la possibilità di vedere altre modifiche alla foto un'ultima foto che volevo farvi vedere perché penso di avervi comunque fatto capire cosa fa questo software cosa è in grado di fare questo software è questa la foto di per sé mi piaceva quindi non l'ho modificata in maniera drastica ma l'ho modificata solo in una situazione cosa vuol dire che c'è solo una parte della foto modificata adesso vi faccio vedere se io vado a cliccare sull'occhietto faccio diventare la foto come era in origine quindi la foto adesso è così se io clicco qua vedete in alto a destra nella parte di porzione in alto a destra come tutto è annebbiato e non definito rispetto a tutto il resto della foto se io adesso vado a rilasciare l'occhietto vedete come l'ho recuperato e come adesso è più integrato nella foto a livello dettaglio poi si può migliorare ancora però vedete che io ho modificato solo quella porzione quindi solo quel triangolo in alto a destra per fare questo cosa ho dovuto fare se io vado su modifica e mi fa vedere le modifiche che ho fatto ok cliccando sul simbolo in migliora con con la punta della matita del pennarello chiamiamolo come vogliamo che sarebbe aggiungi maschere se io clicco qua posso andare a selezionare una porzione di foto che voglio andare a modificare quindi solo quella parte verrà modificata ma per modificare quella foto la devo evidenziare quindi vedete che se io adesso vado sulla foto appare questo cerchio con un più che sarebbe la punta del pennarello per intenderci dell'evidenziatore chiamiamolo così se io clicco col tasto sinistro vedete che diventa rosa quindi vuol dire che io ho selezionato quando ho fatto la modifica quella parte che è diventata rosa quindi adesso quella parte che è rosa è quella che io ho modificato ovviamente posso andare a diciamo andare a rimodificarla posso andare a deselezionare tutto però io quella parte era quella che volevo modificare perché il resto della foto per i miei gusti andava benissimo così quindi solo quella parte era da modificare quindi ho deciso di modificare solo quella come vi ho detto si può fare molto di più perché secondo me c'è un po' ancora da modificare tende tutto un po' al azzurro verde secondo me si può intervenire appunto su quello che è il colore però rispetto a come era la foto originale vedete che era tutto molto più era tutto molto meno dettagliato molto più annebbiato ha preso un po' più vita ma questo era solo per farvi vedere che posso andare a selezionare solo una parte della foto per modificarla in maniera semplicissima una funzione che volevo farvi vedere poi interessantissima è l'applicazione disponibile per lo smartphone cosa vuol dire che per lo smartphone gratuitamente abbiamo la possibilità di installare Luminar Neo nello smartphone che non è un'applicazione che ci permette di modificare le foto è un'applicazione che ci permette di comunicare con Luminar Neo che abbiamo installato nel nostro pc cosa vuol dire che se io vado aprire l'applicazione Luminar Share se io vado aprire l'applicazione che si chiama Luminar Share che è gratuita per il telefono a questo punto posso scansionare il QR code quindi cliccando in alto a destra dove c'è il simbolo di condivisione vedete connetti connetti appare un QR code se io faccio scansiona QR code dallo smartphone ok lo smartphone ha scansionato il QR code adesso i due dispositivi comunicano a questo punto posso inviare una foto direttamente che ho nello smartphone inviarla direttamente a Luminar Neo per modificarla o addirittura fare il mirror di Luminar Neo cosa vuol dire che se io faccio il mirror di Luminar Neo ho la possibilità di vedere la foto che vado a modificare se io adesso vado a aprire una foto per esempio questa scattata sul lago maggiore dell'app San Zino Mini Pro vado a fare modifica vedete che la foto adesso è nello smartphone quindi quello che vedo in Luminar Neo nel PC è quello che vedo anche nello smartphone e la cosa bella che quello che io modifico lo vedo in tempo reale modificato anche nello smartphone ed è fantastico per farvi capire subito al volo se io clicco sull'occhietto che va a disabilitare le modifiche che ho fatto a questa foto e ho fatto 6 modifiche se io vado a cliccare sull'occhietto la foto era così guardate anche nello smartphone come cambia vedete arriva con un secondo di ritardo ma è fantastico infatti vedete che se rilascio la foto ritorna nella versione modificata ed è fantastico guardate ancora se io clicco vedete in fondo come tutto diventa annebbiato come nella foto che ho nel PC se vado a rilasciare la foto ritorna nella versione modificata praticamente tutto quello che io modifico qua in tempo reale si modifica qua ma la cosa bella di questa funzione cos'è? che facendo questa cosa una volta modificata la foto sotto ho condividi posso condividere subito su Instagram su Telegram su Whatsapp cioè posso condividerla dove voglio istantaneamente una foto che ho appena modificato dal PC mentre se l'altra funzione come vi ho detto è invia foto a Luminar Neo cosa vuol dire che se io clicco su Luminar Photo vado a selezionare la foto e la condivido direttamente a Luminar Neo supponiamo di prendere questa mia foto che ho fatto domenica vedete mostra l'elemento selezionato 1 faccio aggiungi questa foto adesso mi dà la possibilità di essere inviata a Luminar Neo se io ci clicco sopra la foto viene inviata e all'interno delle foto create come vedete Luminar Share se io ci clicco sopra ho queste due foto che avevo già condiviso io negli altri giorni per modificarle e poi ho questa foto nuova che è quella che ho appena trasmesso a Luminar Neo quindi questa foto adesso è all'interno di Luminar Neo nel PC e la posso modificare poi mentre me la modifico me la posso andare a ricondividere cioè se io adesso faccio Mirror di Luminar Neo cosa succede che la foto se io clicco su modifica eccola qua e se io vado a modificare adesso faccio una modifica assurda giusto per farvi vedere cosa succede in tempo reale supponiamo di fare miglior a cielo ok vedete il cielo in alto è diventato blu scuro è diventato blu scuro anche nello smartphone è fantastico quindi ragazzi spero di avervi spiegato e di essere riuscito a farvi capire cos'è Luminar Neo cosa è in grado di fare ma soprattutto cosa è in grado di farci fare senza essere capaci di fare assolutamente niente solo di avere un drone, di avere uno smartphone, di avere una macchina fotografica per scattare foto ma soprattutto nel mio caso e per tanti di voi che mi seguite perché la maggior parte siete amanti di droni sapete che scattare foto con un drone è semplice perché facciamo un click e la foto è fatta però spesso la foto è quella che volevamo dal punto di vista dell'inquadratura ma non è quella che volevamo dal punto di vista della luce, del colore, delle ombre, della sovraesposizione cioè tutte queste cose che vanno a farsi cestinare quella foto anche se era la nostra foto ideale dal punto di vista dell'inquadratura soprattutto perché poi magari anche d'estate quando andiamo a far volare i droni nello smartphone vediamo poco cosa stiamo inquadrando, come lo stiamo inquadrando vediamo poco la qualità della foto che stiamo facendo quindi noi scattiamo ma poi in realtà quando poi la andiamo a trasferire nel computer quando una volta che siamo venuti a casa ci rendiamo conto che la foto purtroppo è da buttare quindi ragazzi mi raccomando sotto il link in descrizione per acquistare o abbonarvi per un anno a Luminar Neo io vi consiglio l'acquisto a vita, non costa molto di più e non avete più pensieri di rinnovo però poi uno decide lui ma una cosa che mi raccomando ragazzi che questa offerta di questo prodotto nuovo che è in offerta appunto perché è rilasciato il 17 febbraio scade il 3 marzo e quindi ragazzi se volete dare un netto miglioramento alle vostre foto Luminar Neo è il software che fa per voi e soprattutto fa anche per me quindi ragazzi se tutto questo vi è piaciuto e vi è stato interessante mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su e se vi va seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime spoiler di queste location fantastiche dove vado a far volare i miei droni sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Tregamo Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto, offerte di tutta la tecnologia, di droni quindi li trovate veramente tantissime offerte con i coupon che vi fanno abbassare il prezzo di vendita ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un testo, un tutorial di novità ciao e al prossimo video